Quindi fare 10 secondi dal termine cerca ancora la pick su Pyro, signori, quadrupla di Sloppy ed infatti era tutto sui... Quindi non è diciamo un'azione, una scelta che vediamo spesso, mamma mia Sloppy qui che kill su mammi 30 secondi per cercare di difendere ancora appunto gli avversari, Sloppy qui con il redshot su Minix, attenzione, Sloppy cerca di uscire vivo da questi colpi, doppia per lui, mammi e Pyro con pochissima capia attenzione perché Sloppy potrebbe tirarci fuori comunque un clutch interessante che Sloppy potrebbe quindi fare, 10 secondi dal termine cerca ancora la pick su Pyro, signori, quadrupla di Sloppy Ed infatti era tutto sui round, era nel destino, era nell'aria, grandissimo Sloppy, 4k per lui Per pochi limiti, 3 parte di Mammel, nel frattempo Wontet ripare i secondi, Subbaga l'attacco si è palesato in questo momento, ma la ferma! Sloppy che turnata su Debb, mamma mia Sloppy! Sloppyinator signori! Ma che turnata ha fatto nel ragazzo che c'era in salsa di attrezzi, ma vabbè Sloppy... Mentre andava a piazzare la sua carica di termica, non gliela fa detonare, bravo poi a Lashon a chiudere proprio la kill Intanto attenzione perché Sloppy 0 seconda dell'attacco da Scalesta, Lashon ma Darni Blue e ormai sembra praticamente un, diciamo, un abbrassi in programma E per tempo arriva il rest, Sloppy che pick su Wontet, il grande action per lui va a dare un vantaggio un momento Ciao!